Caltagirone, città d'arte e patrimonio UNESCO presenta la Biennale della ceramica e delle architetture di paesaggio Mostre, eventi, workshop, installazioni e performance artistiche dal 7 maggio al 1 novembre 2015 Biennale della ceramica siciliana Biennale del paesaggio Biennale Kids, arte ceramica femminile A Caltagirone, sino al 1 novembre Condividiamo bellezza Grazie a tutti